Sotto una pioggia battente si è svolta lunedì 1 novembre allo stadio Saleri di Lumezzane la partita di beneficenza uniti contro la SLA a favore dell'Aisla tra vecchie glorie del Brescia ed ex calciatori dilettanti della nostra provincia. Egito Salvi da una parte e Gianluigi Gabrieli dall'altra sono stati i mister che hanno guidato le due squadre dalla panchina. 2 a 2 il risultato finale con rete iniziale per l'All Star Brescia di Preti, pareggio di Reculiani e vantaggio di Rivadossi per il Football Story Brescia nonché definitivo pari da parte delle vecchie glorie del Brescia di Jadid. Purtroppo il tempo inclemente non ha favorito l'affluenza di pubblico che ci si aspettava ma siamo certi che i protagonisti della serata, rinvigoriti anche dal sostegno rilevante ricevuto dagli sponsor, ci riproveranno. Sì, è un motivo di orgoglio essere qua, è stata organizzata molto bene, è un bel evento, grazie a Lumezzana siamo in una struttura bellissima e speriamo che la gente venga e che risponda a questo evento perché insomma poter fare qualcosa di buono anche per l'Aisla è una bellissima cosa. Oggi è un bel momento, al di là del clima che c'è un po' avverso ma la motivazione per la quale siamo qui noi e per la quale sono qui gli ex Brescia unitamente alle persone che sono a corsa a vedere questo evento è sicuramente un bellissimo momento ritrovarsi dopo così tanto tempo, è qualcosa di speciale. Qua mi sembra che sia importante al di là che uno giochi o non giochi essere riusciti a ritrovarci un po' poi a Lumezzana che è un posto dove era un po' di tempo che non riuscivo a venire e va bene lo spirito poi che uno giochi o non giochi l'età passa per tutti quindi non mi manca giocare a calcio però mi piace essere presente perché incontro persone che parecchio tempo che non le vedo. E' già un'emozione salire le scale e tornare dove c'erano gli spogliatori mangi di entrare in campo però l'importante è essere qua per questa manifestazione perché quando vengo a Lumezzana è sempre un'emozione particolare. Un ritrovo anche tra vecchi amici? Sicuramente, vecchi sicuramente. Ci siamo ritrovati poco tempo fa tramite Carletto, abbiamo fatto una bella rimpatriata, è sempre bello perché oltre ad aver fatto bene sul campo abbiamo creato un bel gruppo quindi quando ci ritroviamo è sempre bello. Sì, dai siamo pronti poi quando ci fanno delle partite con uno scopo benefico va sempre bene il tempo non ci aiuta perché effettivamente non è una bellissima giornata però noi ci siamo abbiamo risposto presente perché come tutti quanti voi sapete questa è una partita che tutto quello che riusciamo a portare a casa sarà devoluta per la SLA. Quando hai a che fare con persone con una sensibilità spiccata che sono gli ex calciatori è semplice organizzare queste cose perché hanno voglia di esserci hanno voglia di fare del bene hanno voglia di andare contro il tempo e tutte le avversità che si possono presentare quindi è un piacere credo per me come lo è per tutti essere qua oggi e poter dare una mano in qualche modo. Grazie. Grazie. Grazie.